buongiorno a tutti benvenuti sul mio canale vivo facile oggi vi regalerò grandi emozioni con un prodotto veramente bomba di altissima qualità per quello che concerne soprattutto l'aspetto della profumazione negli ambienti casalinghi domestici o di altro genere stiamo parlando di questo prodotto professionale che si chiama olé essenza effettivamente vi dico subito che garantisce una persistenza di profumo veramente imbattibile non esistono uguali infatti ho visto che non sono l'unica ad essere appassionata di olé tantissime persone lo cercano ovunque perché non è di facilissima reperibilità però olé non è soltanto uno spray in teoria appunto profumante per ambienti ma dovrebbe essere anche un detergente e un desodorizzante quindi sì togliere i profumi sgradevoli gli odori sgradevoli quelli della cucina del fumo eccetera ma dovrebbe anche detergere si può utilizzare su tantissime superfici ceramica linoleum resina legno parche trattati con cere naturali o sintetiche quindi è anche piuttosto delicato sulle superfici dove viene applicato però ecco a livello di detergenze io vi dico subito la mia io non l'ho trovato buono in che senso io l'ho applicato su ho fatto il test del mobile laccato che non mente mai e mi sono accorta che purtroppo anziché togliere quello che si vede le ditate piuttosto che lo sporco eccetera va a creare una sorta di patina lascia un alone quindi a me questo fa pensare che come detergente per le mie esigenze non vada bene quindi per me io ho notato questo però l'ho acquistato non come detergente ma come appunto profumante e questo questo aspetto sicuramente è assolutamente raggiunto anzi devo dire al di sopra di ogni aspettativa e dovrebbe anche essere un prodotto utilizzato per spolverare quindi siamo sempre lì io non lo uso perché togliere la polvere con questo prodotto significa secondo me lasciare degli aloni quindi evito proprio di usarlo come detergente però magari qualcuno potrebbe avere un'opinione diversa dalla mia quindi chissà fatemi magari sapere io vi posso dire che come profumatore per ambiente è top ma come lo uso io beh allora io lo uso in diversi modi io l'ho comprato primariamente per il condominio quando io pulivo il condominio quando pulisco il condominio che è il mio turno io ovviamente spazzo lavo tutti i vari anche complementi d'arredo che ci sono quindi tappetini tappeti eccetera una volta che ho fatto tutto questo vado proprio a spruzzare sui tappeti quindi sui tessuti asciutti e puliti questa essenza ragazzi io vi dico che i condomini mi hanno chiesto che cosa ho usato perché la persistenza è durata quasi una settimana e parliamo di un ambiente cioè quello del vano scale dove c'è molto movimento quindi si aprono porte si aprono finestre entra esci quindi dove comunque la persistenza del prodotto è messa veramente a dura prova eppure eppure fa fa tantissimo ho quindi deciso di scusate utilizzarlo anche in casa ogni tanto sui miei tappeti sempre belli puliti ogni tanto semplicemente mettendolo su un batuffolo non so se avete presente quei pompon diciamo che si usano per la cipria ecco si trovano nei negozi di casalinghi eccetera io lo imbevo bene il mio pompon il mio batuffolo con questa essenza e lo metto nella stanza che voglio profumare può essere la camera da letto può essere la sala eccetera oppure una spugnetta insomma qualcosa che possa essere imbibito e rilasciare veramente a lungo la profumazione si può anche nebulizzare in aria si può nebulizzare sui tessuti ad esempio appunto i copri divano e abbiamo detto i tappeti ragazzi veramente vi accorgerete che fa la differenza come profumazione ne esistono tantissime quasi tutte hanno nomi di colori e senza porpora e senza lilla e senza azzurra e senza verde e senza bianca gialla ocra ce ne sono tantissime dirvi di cosa sanno è difficile perché non sono profumi semplici sono profumi abbastanza ben articolati e sono soprattutto profumazioni molto adattabili a contesti come gli uffici i condomini le case quindi non sono quei deodoranti scadenti diciamo con le profumazioni da bagno ecco sono molto ben articolati molto eleganti ed è questo che li rende particolarmente amabili ma io voglio dirvi di più allora il problema macchina io nella mia auto come tutti noi vorremmo avere delle profumazioni molto buone che durino a lungo ho provato di tutto arbo magico ho provato omini che si attaccano diciamo al cruscotto di tutto però sono profumazioni sempre che o durano molto poco quasi tutte oppure hanno un'esplosione di profumo quasi nauseante quando le apri esempio gli alberelli poi però dopo pochi giorni sparisce quindi per tre giorni ti senti male dalla nausea dal profumo bomba dopo poco tempo svanisce tutto utilizzare questa olè è secondo me buono sempre nella misura di metterlo in un batuffolo che poi lasciate in macchina perché o nei tappetini della macchina lavati e puliti perché appunto potete dosare voi l'intensità della profumazione a seconda di quanti spruzzi andate ad applicare sul tappetino piuttosto che sul batuffolo e veramente da quel momento in poi state sicuri che per tre settimane voi sentirete il profumo io ho fatto la prova di recente e le ho contate le settimane in cui sentivo ancora il profumo tre settimane che è veramente tanto si sente molto bene e non ne ho applicato nemmeno più di molto quindi per l'auto è diventato il mio rimedio unico io ormai non uso più alcun tipo di alberello di niente non compro più niente io ho il mio flacone di olè ho diverse fragranze diverse essenze le cambio a seconda del mood però ragazzi vi garantisco che è una bomba cioè per l'auto è stata la svolta per me una cosa importante che vi voglio dire è di ricordarvi che di questo stesso produttore esistono anche altri due tipi di prodotto che si chiamano non olè ma oie o oies allora olè nasce per utilizzatori professionali quindi questo è un prodotto professionale a tutti gli effetti che viene utilizzato quindi immagino anche nelle imprese di pulizia mentre oie ed oies sono più indicati ai consumer quindi ai consumatori come noi casalinghi eccetera io però ho avuto un'esperienza con oie non era uno spray ma era un detergente per i pavimenti che non mi ha lasciato particolarmente soddisfatta nel senso che era un detergente comunissimo che non lasciava secondo me neanche più di tanto profumo quindi io per andare sul sicuro mi compro il mio olè e sto a posto qual è il prezzo allora e dov'è la reperibilità il prezzo varia 7 10 euro 12 euro però ragazzi vi assicuro che questo è un flacone da 750 ml è un prodotto che vi durerà un'eternità perché ne bastano pochi spruzzi per una profumazione veramente bomba ed è un prodotto così polivalente lo potete utilizzare per così tante cose che sinceramente ne vale la pena ed è veramente gradevole fa quello che promette a livello di profumazione assolutamente è il migliore che io abbia trovato da quando io ho conoscenza dell'esistenza di queste profumazioni in generale per gli ambienti quindi io lo compro e ne sono soddisfatissima vi lascerò naturalmente i link perché lo trovate anche su amazon in quanto purtroppo non è facile da reperire in giro quindi si può trovare i negozi di casalinghi negozi di detergenza ma non è immediatamente trovabile cioè è un po difficile ho visto che tante persone hanno difficoltà a reperirlo quindi vi lascio il link di amazon se volete acquistarlo io sono sicura che se lo acquistate come essenza profumante non ve ne pentirete assolutamente voglio aggiungere un'altra cosa un altro uso che io ne ho fatto una volta che ho pulito i gabinetti i bagni eccetera io ne vado a spruzzare un pochino anche ad esempio all'interno del wc ecco anche lì profumazione bomba oppure nella nello scopino nello scopino del bagno anche lì dare una spruzzata all'interno del contenitore porta scopino ragazzi un profumo che rimane in tutto il bagno veramente veramente a lungo e ripeto un profumo anche abbastanza ricercato quindi non dozzinale io ormai per quello che riguarda la profumazione degli ambienti mi sono veramente adeguata sia tantissimo all'utilizzo di questo spray e forse pari merito con un tipo di profumazione diversa ad alcune candele di cui io vi io poi vi parlerò quelle le potrete riperire facilmente e vi piaceranno secondo me sicuramente non hanno la stessa persistenza però accendere una candela almeno per me è molto gradevole tutti gli altri tipi di profumazione li ho un po bypassati gli incensi che io usavo tantissimo quelli che si accendono il diffusore di oli essenziali li ho un po accantonati dopo queste scoperte io vi ringrazio tantissimo di avermi seguito vi lascio tutti i link che potrebbero esservi utili e fatemi sapere se vi piace vi rimando ad un prossimo video buona giornata ciao a tutti